Incomincia a muoversi il mercato pesante, come riportato anche dalla app di OneFootball, Jovic, il giocatore dell'Eintracht di Francoforte, passa a Real Madrid. Real Madrid che cercava un centravanti, sono cambiate un po' le strategie del presidente Florentino Perez che riteneva non fosse utile qualche mese fa il centravanti, invece prende Jovic, 65 milioni di euro. Mia opinione, strapagato, 65 milioni per Jovic e faccio un nome non di un giocatore del Milan, ma se Jovic vale 65 milioni, hanno ragione i tifosi nerazzurri, hanno ragione i dirigenti nerazzurri, che il signor Maurito Icardi ne vale 90 o 95. C'è una bella differenza tra Icardi e Jovic. Questa è la mia opinione, ma attenzione, attenzione. Il Real Madrid non si ferma qua. Siamo sempre dell'opinione che Hazard sia destinato a andare anche lui nella capitale spagnola, come un altro giocatore che già da settimane, da mesi, pensavo ormai destinato ad andare lì e secondo me, alla fine, soprattutto se rimarrà Pocettino al Tottenham, visto che Eriksen è un po' stanco dei metodi di Pocettino, proprio Eriksen dovrebbe essere un altro dei candidati per un Real Madrid molto, molto, molto deludente in questa stagione. È stato probabilmente Zidane a contestare la prima opinione del presidente Florentino Perez che puntava a non avere il centravanti. No, un centravanti ci serve come alternativa a Benzema, però francamente meglio di Jovic io ne vedrei degli altri, però poi lo vedremo. Se Jovic giocherà un campionato entusiasmante mi metterò la cenere sulla testa, ma forse per adesso non vado a comprare neanche la legna. Attenzione dunque alla possibilità che Eriksen, oltre che Hazard, vada a Real Madrid che incomincia a essere una squadra ben interessante. Qualche settimana fa si parlava anche di un Marcelo che poteva andare alla Juventus in cambio di Alexandro, però questa voce poi a poco a poco è scemata. Ma noi parliamo di centravanti, parliamo di grandi attaccanti e dunque il primo colpo del mercato veramente effettivo, pesante, è stato quello del Real Madrid. Anche perché qualche panchina è ancora, diciamo, non occupata e quindi prima di muoversi bisogna aspettare. Lo stesso Martinez col Barcellona non è ancora ufficiale, vediamo quando ci sarà l'ufficialità e i movimenti del Barcellona. Quindi Jovic, primo colpo del mercato e poi in uno dei prossimi YouTube vi dirò a mio prossimo video che cosa sta bollendo in pentola tra Juventus e Inter. Perché queste plusvalenze, più che i giocatori in sé, fanno molta, molta gola. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.